che poi dopo ciò però insomma proviamo a girare a un certo punto ho fatto così mi sono girata però per prendermi la camera ho fatto così Claudia assorta nei suoi pensieri ma bella ma dove vai? che tocca fare per mangiare mamma mia Gerardo Gerardo la guara 42 42 a 0 no nina non la posso guardare oggi vado a galera nina sei fantastica sei bellissima non ho parole non ti posso guardare perché se no io vado dietro le sbarre ti amo nina sono tutti mati sono tutti mati sono tutti mati qua adesso stanno iniziando a girare prenditi da sola fatti vedere come stai io non riesco con la borsetta ah fai tu non prendi le mani da lì però tesoro ah così fai tu togli le mani da lì perché da mente è andata dico ita ita sì grazie a tutti grazie a tutti